A far scattare le indagini è stato un video pubblicato su Instagram nei mesi scorsi, nel quale avrebbe affermato, tra le altre cose, cose molto molto pesanti riguardo gli ebrei. Cecilia Parodi, scrittrice e relatrice di convegni, è indagata per l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e per diffamazione aggravata dall'odio razziale, a seguito della denuncia della senatrice a Vitaligliana Segre. A far scattare la denuncia e le indagini è stato un video pubblicato a luglio su Instagram nel quale avrebbe affermato, tra le altre cose, odio tutti gli ebrei. Il fascicolo, a seguito della denuncia della senatrice Segre, assistita dal legale Vincenzo Saponara, è stato aperto dal PM Leonardo Lesti della procura guidata da Marcello Viola. Cecilia Parodi, le frasi incriminate. Su Instagram, stando a quanto ricostruito nelle indagini, Parodi avrebbe prima usato frasi antisemite contro Segre e poi, dopo un commento di un utente, avrebbe anche pronunciato una serie di affermazioni come odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all'ultimo. Proprio per queste frasi la procura ipotizza anche l'accusa di istigazione a delinquere, assieme a quella di diffamazione aggravata. La sua risposta, sono una cinquantenne senza affiliazioni politiche. Lei su Instagram, dove conta 14.000 follower e condivide quotidianamente notizie e aggiornamenti su Gaza, ha risposto in un post alle accuse, le mie parole sono state di certo facili da strumentalizzare, ma nessuno avrebbe potuto e dovuto interpretarle in quel modo. Mentre, da mesi, un vero gruppo di mostri mi sorveglia, mi aspetta al varco e pianifica strategie per silenziarmi, umiliarmi, infangarmi, io sono andata avanti a far del bene, perché io non distruggo. Sono una cinquantenne senza affiliazioni politiche e senza amicizie potenti. Ma ho comunque amici, dalla Palestina all'Italia. Fratelli d'Italia porta il caso Parodi in commissione. Del video shock, in cui venivano usate anche altre espressioni contro gli ebrei, si era parlato a inizio luglio scorso, tanto che i componenti di Fratelli d'Italia della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza avevano annunciato che avrebbero portato proprio in commissione il caso di Cecilia Parodi, scrittrice e relatrice in alcuni convegni, per le gravissime dichiarazioni antisemite che in queste ore stanno circolando in maniera massiccia in rete. E il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, aveva spiegato che Parodi sarebbe stata ospite anche di alcune iniziative dei giovani del PD. La denuncia è stata presentata alla procura di Milano dall'avvocato di Segre. Tuttavia gli inquirenti dovranno valutare anche eventuali profili di competenza territoriale ad indagare e se sarà necessario semmai trasmettere gli atti di indagine ad altra sede giudiziaria.